Cyber Security Italia, Presidente siamo in una fase delicatissima, c'è un conflitto in atto, qual è la situazione e quali sono le prospettive? Siamo ad un passo dalla notte e questo ci deve estremamente preoccupare perché siamo abituati a un mondo dove nell'Occidente la guerra la vediamo attraverso il filtro dei videogiochi o dei film o della televisione, conflitti lontani che in qualche maniera non ci toccano. Questo è un conflitto che mostra il volto dell'orrore della guerra moderna, da una parte le trincee, i missili, il sangue, la carne e la morte, dall'altra parte attacchi terribili dal punto di vista cibernetico che devastano la vita dei cittadini nell'ambito della qualità e dei servizi essenziali. Quindi dobbiamo renderci conto che non solo è cambiata la guerra ma è anche cambiata soprattutto il modo di percepire il ruolo dei civili che non sono più soltanto tragici spettatori ma attori consapevoli. Quindi è una guerra tradizionale ma anche una guerra economica e anche una guerra dell'informazione. Questa è una caratteristica rilevante anche con questi attacchi. Lei pensa che sia per il mondo occidentale sia arrivato il momento anche di preservarsi in funzione di questi attacchi, nuovi attacchi cyber? Io penso che mentre prima la sua saggia domanda ha già in sé tutti i germogli della risposta. Noi siamo abituati a concepire la guerra con un fatto legato al rumore, il boom, lo sparo, la violenza. Mentre ormai la guerra è per molti aspetti, per lo meno su due, su tre, quello economico e quello cibernetico, assolutamente silenziosi ma non meno devastanti. L'unica possibilità a mio avviso per evitare un conflitto è quello di essere preparati a farlo, sia dal punto di vista degli strumenti che siano strumenti militari, strumenti economici e cibernetici e d'altra parte della volontà di affrontare chi vuole la guerra. Quali scenari lei immagina in questa fase? Mi rendo conto che è molto difficile, è molto complesso, ci sono sempre trattative in atto nonostante la gravità della situazione. Però da analista lei che cosa vede in questo momento? Parliamo nel pomeriggio del 2 marzo, in questo momento io sono estremamente pessimista e ho un fortissimo timore che il rischio di un allargamento al conflitto tra Russia e Nato sia altamente probabile. Ovviamente ci auguriamo tutti che così non sia.